Finalmente, e dico finalmente, sono disponibili i filtri per il MINI 3 PRO! E oggi faremo un bel ripasso su come utilizzarli al meglio su qualsiasi tipo di drone. Ma prima vorrei riconfermare tutto ciò che ho detto nella recensione, in particolar modo in questi due mesi di intenso, intensissimo utilizzo, non so se ci sia stato un giorno in cui lui non abbia volato, forse sto esagerando. Nonostante ciò l'ho utilizzato oltre a 3700 metri di quota e si è sempre comportato bene, in ogni occasione sono sempre riuscito a portare a casa delle ottime riprese. In questi mesi mi sono annotato i suoi punti di forza che mi fanno portare lui nello zaino invece di altri droni. Il primo fra tutti è il rapporto che sta tra il peso, la portabilità di questo drone e la qualità video offerta. Questo sensore da quasi un pollice che riesce a filmare fino a 10 bit è qualcosa di impressionante, se pensiamo che lui pesa solamente 249 grammi. Motivo per il quale l'ho portato sul Ringiani in Indonesia e riuscito anche a resistere a venti fortissimi. Il secondo motivo è il DJI RC. Grazie a questa nuova soluzione posso non utilizzare lo smartphone per pilotare il drone, anche perché come potete vedere lo smartphone lo utilizzo per vloggare, per raccontare le esperienze che vivo. Questa soluzione mi permette di risparmiare molta batteria e di dedicare lo smartphone solamente per le funzioni smartphone. Inoltre la luminosità di questo radiocomando è nettamente superiore a qualsiasi tipo di smartphone e soprattutto sotto il sole non abbiamo cali di luminosità come accade al mio iPhone 12 Pro Max. Penso che accada con qualsiasi altro dispositivo. Il terzo motivo? La sua silenziosità. Non si sente e a mio avviso è fondamentale in quanto non vogliamo disturbare gli altri mentre si vola e sia anche più tranquilli, diciamolo. Il quarto ed ultimo motivo è il fatto che si possa ruotare la camera di 90 gradi e registrare in verticale i 9 sedicesimi. Nell'ultimo periodo non vi nascondo che questa funzione la sto utilizzando sovente per creare dei reel ad hoc per Instagram. Se non mi seguite ancora, beh, piocciola, morolla, Alessandro, ne approfitto per ricordarvelo, in modo tale che possiate sempre rimanere aggiornati con spoiler e quant'altro e interagire con sondaggi. Ma che cosa sono i filtri ND e a cosa servono? Sfiegato in modo molto molto semplice, funzionano come gli occhiali da sole, ovvero servono a ridurre la quantità di luce che entra nel sensore del drone. Perché limitare la luce che entra nel sensore? Come ben saprete dovremmo rispettare la regola dei 180 gradi. In che cosa consiste? Dovremmo tenere lo shutter speed, l'otturatore, al doppio degli fps. Registriamo 50, registriamo a 30 fps, l'otturatore dovrà essere impostato a un 60 e così via. In descrizione troverete un video dedicato a quale framerate utilizzare e perché utilizzarlo. Se non rispettassimo la regola dei 180 gradi, di conseguenza non utilizzassimo i filtri, avremo lo shutter speed molto alto per avere un'esposizione corretta. Il risultato sarà una scena fredda, statica, senza effetto di motion blur ai lati e sarà anche scattosa. Al contrario, se utilizzassimo i filtri, avremo una scena molto più cinematografica, più naturale per il nostro occhio, in quanto avremo l'effetto di motion blur. Dopo aver visto la differenza, penso che tutti noi vogliamo utilizzare i filtri. Ma quale applicare? Potremmo utilizzare delle applicazioni dedicate oppure delle tabelle. Vi lascio in descrizione un video dedicato a questo argomento. Sarà molto semplice dopo un paio di uscite capire il filtro da applicare. La cosa bella è che rispetto ai suoi fratelli minori, qui abbiamo un vero e proprio aggancio. Avremo la possibilità di scegliere due kit, il kit DJI, un kit base, avremo a nostra disposizione l'ND16, l'ND64 e il 256. Oppure potremo scegliere un kit più completo come quello di casa Freewell, che va dall'ND4 all'ND64 e abbiamo anche un ND1000 per le foto a lunga esposizione. Il Mini 3 Pro, ma anche il DJI Air 2S o l'Air 2, non sono dotati di diaframma variabile, come ad esempio il Mavic 3. Consiglio di lasciare lo water speed invariato in base agli FPS a cui registriamo. Quello che possiamo variare sono gli ISO. Di conseguenza io metterei un filtro leggermente più scuro del dovuto, la maggior parte delle volte l'ND64 è perfetto e poi potremo andare a giocare sull'ISO per avere la giusta esposizione. Io terrei da ISO 100 a ISO 400, anche se scegliessimo ISO 400 non avremo alcun tipo di rumore nella scena. Vorrei complicare un po' le cose con i filtri NDPL. Cosa sono e a cosa servono? Funzionano sempre come gli ND, ma hanno una ghiera che andrà regolata in base all'inclinazione del sole. Ovviamente stiamo volando col drone e allora per semplicità la mettiamo sul puntino. In questo caso abbiamo una piccola H. Si noterà subito la polarizzazione del filtro perché avremo un cielo e l'immagine complessiva ma soprattutto il cielo più vivace e allo stesso tempo avremo anche una diminuzione della foschia nella scena. Dona un effetto che può piacere oppure non può piacere e in più se ci saranno delle superfici riflettenti toglierà i riflessi se la polarizzazione è corretta. Nel kit DJI troveremo un ND256 mentre nel kit Freewell troveremo un ND1000. A cosa servono? Principalmente per il reparto fotografico per effettuare delle foto a lunga esposizione ovvero potremo impostare l'otturatore a 1 oppure 2 secondi. Li potremo utilizzare per ottenere degli scatti differenti dal solito con il classico effetto seta oppure un lago potrà sembrare un vero e proprio specchio. Non ci dovrà essere troppo vento se non la foto verrà mossa ma sperimentate, sperimentate con i filtri, sperimentate con il vostro drone. E nulla, spero che questo episodio vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se avete un kit quale preferite, se amate gli NDPL. Insomma fatemi sapere il vostro pensiero. Ci si vede anche su Instagram per rimanere aggiornati con sondaggi e quant'altro. Ci sarà anche un bel contest. Al prossimo episodio. Ciao!